Una conferenza stampa sul terzo settore, a che punto siamo? Intanto abbiamo iniziato dal mese di giugno a parlare con tutte le associazioni del territorio perché un forum provinciale è organizzato da tutte le strutture che sono presenti nella provincia di Clotone. Abbiamo fatto un primo incontro nel distretto di Ciro, poi un secondo incontro nel distretto di Mesoraca, oggi lo stiamo facendo con il distretto di Clotone. E in più altri due incontri li abbiamo fatti con le organizzazioni di secondo livello. In realtà stiamo cercando in modo molto democratico di pensare di ricostruire un forum provinciale che era stato già fatto negli anni passati ma che ha subito purtroppo dei fallimenti. Sembrano che i tempi siano cambiati, la gente ha voglia di stare insieme, di fare rete. Quindi c'è la possibilità che a breve nascerà il forum provinciale di Clotone che per normativa ha diritto a stare sui piani di zona dei vari distretti. Quindi il forum non è quello che gestisce i progetti ma è quello che fa le politiche sociali e non solo sociali perché nel forum del terzo settore ci sono anche le associazioni culturali e anche quelle sportive, dirittantistiche ovviamente. Quindi cercheremo di dare una mano anche alle amministrazioni locali per vedere se anche la nostra visione di una provincia, delle varie città, può portare un cambiamento positivo per tutto il nostro territorio. Le associazioni e non sono disposti a venire incontro per fare tutto questo? Tutte le associazioni che abbiamo contattato, compreso anche quelle di oggi, sono disponibili. Io li ho invitati che la disponibilità significa lavorare. Lavorare con documenti non significa fare un forum, un direttivo e ognuno entra in un direttivo. Entrano nel direttivo e partecipano nelle varie commissioni. Chi ha voglia di mettersi, fare documenti e esprimere la propria visione, della propria associazione su come vuole fare questo cambiamento. Altrimenti è tutto inutile, non basta un portavoce o un direttivo, non serve a nulla. Credo che stiamo organizzando un sistema nuovo nella provincia di Crotone che neanche in tutta la Calabria hanno mai fatto. Quello di parlare una per una con le associazioni, capire anche quali sono i loro problemi e quali sono anche i loro sogni. È un fatto democratico che solitamente non succede, ma la provincia di Crotone è sempre stata un laboratorio su tutti i temi sociali.